Adesso stiamo per entrare nella pratica centrale di questa sessione di lavoro, ed è il Kuliké. Kuliké è un altro nome che attingiamo alla conoscenza umana per definire la capacità di trasferire la propria presenza in altre entità e da lì cambiare le cose. In realtà la traduzione vera e propria sarebbe l'arte di cambiare forma. Ecco perché ho scelto questa immagine. Voi sapete che ci sono centinaia e centinaia di animali e di specie, intere specie, che conoscono l'arte della mimetica. Sanno mimetizzarsi perfettamente, sono proprio le gare a chi si sa mimetizzare meglio. Questa è una mimesi visiva, ma ci sono tanti altri modi di emulare, di copiare gli assetti, gli schemi energetici delle cose. Noi copiamo gli schemi energetici delle emozioni delle persone, delle idee. Questo è uno schema energetico della forma, quindi è più visibile. Ma il Kuliké è un qualcosa che noi facciamo male senza volerlo inconsciamente, sempre perché noi siamo interconnessi. Qua si tratta di interconnettersi volontariamente, sapendo come si deve fare, per fare le cose in un certo modo. E allora è proprio l'arte di cambiare forma, ma soprattutto perché quest'arte di trasferirsi nello spirito, in un altro ente, può portare fino all'estremo, e sono molti gli sciamani che l'hanno fatto, ma pochissimi riguardo alla fattibilità di questa cosa, di essere proprio capaci di cambiare forma. Anche l'essere umano, tra virgolette, che raggiunge quello stato di consapevolezza, riesce a cambiare forma, oltre che a viaggiare fuori dal corpo, questa cosa l'avevamo accennata anche l'altra volta. Noi viaggiamo più bassi, ma è sufficiente per ampliare notevolmente le nostre capacità di vivere meglio la nostra vita qui, e ci accontentiamo di semplicemente entrare in contatto, in connessione amorosa. Amorosa non vuol dire appiccicaticcia, amorosa vuol dire meravigliosamente distaccata, ma totalmente integrata alla cosa che stai andando a visitare. E si tratta di copiare lo schema energetico, anche qui vado in questo elenco, ma adesso faremo l'esperienza insieme. Si tratta di copiare quindi lo schema energetico, potremmo dire lo spirito, potremmo in qualche modo copiare quella che è la matrice che genera le sensazioni di quel lente lì. Perché sensazioni è l'unica parola che possiamo usare per trasportare un po' quello che può essere il sentire di una pietra, per esempio, con il definire qualcosa con un linguaggio umano. La sensazione è la sensazione di una pietra e la comunicazione che viene emessa in risposta da uno stimolo entrato nel suo schema energetico, nel suo spirito. Quindi basta, tra virgolette, entrare nello spirito con compassione per magia, noi comprendiamo e sentiamo come comprende e sente quella cosa. Questa è la magia. Questa è la vera magia. Cioè questa cosa accade perché questa cosa che stiamo facendo la stiamo facendo per amore, per conoscere. Perché vedete che amare e conoscere è quasi la stessa cosa. Io non posso amare nulla che non conosco e non posso non conoscere nulla davvero se non lo sto amando. Quindi è questa la spinta, queste sono le forze, la conoscenza di sé, la conoscenza del mondo, la conoscenza della cosa, dell'ente con cui vuoi comunicare. E quindi mi fondo con quell'altra cosa perché passo da una nota comune che è il vuoto con cui la posso abbracciare. Conosco la cosa dall'interno, è l'unica cosa che si può fare. Sapete la fisica quantistica ha svelato delle verità meravigliose che adesso Federico Faggin, non so se lo conoscete, ha addirittura cognato in una teoria della coscienza meravigliosa. E una tra le cose meravigliose che sono state appena formulate è che ogni quantum bit trattiene, a parte un'infinità di dati rispetto al bit, quindi stiamo parlando di appunto il passaggio dai pieni al vuoto. Stiamo dicendo proprio questo, il passaggio della fisica tradizionale alla fisica quantistica vuol dire passare da chi è fermo nell'ologramma di quella bassa percentuale di realtà a osservare quello, si immedesima a quello, a chi passa invece al nagual, alla parte spirituale che abbraccia la maggior parte senza staccare i piedi mai dal tonal, senza staccare i piedi diciamo dalla terza dimensione. Quindi conoscere una cosa dall'interno, perché vi dicevo questo? Perché hanno scoperto che ogni quantum bit non può essere perlustrato se non da se stesso, cioè inconoscibile se non nel momento in cui si manifesta, cioè diventa particella. Capite? Cioè è un campo di possibilità molto ampio e noi non sapremo mai quello che prova. Lo può provare soltanto la coscienza che vive il sistema dell'interno, non lo so, forse qua complico un po' le idee, però si tratta della stessa identica cosa. Io conosco la cosa all'interno, che è l'unico modo con cui posso conoscere. Una persona, una pietra, un evento, un ricordo, c'è un fatto esoterico, c'è un fatto nascosto dietro ogni cosa. Sperimentare le sensazioni di quell'entità, altro punto che vi sto ripetendo, e quindi iniziare a mettere i piedi nel mocassino, come si dice, cammina tre giorni nei mocassini nel tuo vicino, prima di giudicarlo. Ecco, sperimenta le sensazioni come si cammina con quelle scarpe, sperimenta cosa vuol dire essere pietra, cosa vuol dire essere fiume, cosa vuol dire essere foglia, cosa vuol dire essere la persona con cui voglio comunicare, cosa vuol dire essere nuvola, cosa vuol dire essere vento, cosa vuol dire essere fuoco. Sperimenta, mica lo sai, però sai che tu lo puoi fare, cioè tu puoi sperimentare tutto, puoi sperimentare perfino le cose che non hai mai visto del passato, e puoi sperimentare le cose che non hai mai visto del tuo futuro. E una volta che lo fai, se quell'entità ti ha dato la possibilità, intanto ti ha accordato l'ingresso, tu chiedi, non è che ti fondi con quella cosa senza chiedere permesso, adesso lo facciamo insieme, ma poi ovviamente chiedi permesso anche, ma non c'è bisogno di chiederlo, perché sei una cosa sola, senti, però ti interrogo, è un atto interiore, più che telepatico e empatico non si può dire, c'è una comunicazione interna in uno, dove però ci sono due entità, tu è la cosa che stai modulando, anche perché, ve lo dico, mai perdere la propria identità, cioè mai dimenticarsi che sei la cosa che sta modulando. Ok? Ricordatevi, noi sappiamo che stiamo entrando in questo spazio perché intendiamo conoscere, eventualmente modulare e poi tornare al corpo. Ok? Quindi noi sappiamo chi sono, chi siamo, ma ci fondiamo, e nel fonderci la comunicazione è istantanea. Io vi sto trasferendo quegli elementi di dialogo che magari vi sfuggono che sicuramente usciranno, ma deve uscire questo, cioè senti che in armonia col tuo bene, se io modulo le sensazioni così, è già lungo, non esiste, in un centesimo di secondo arriva. Comunque noi dobbiamo percepire che la cosa che stiamo modulando accetta è di essere modulata, mi raccomando, molto importante.